eccoci ragazzi, sto facendo il video ora che è tardi, il tempo qua è facile, è brutto e non voglio che vi ha luci che devo fare i saluti e parlo con voi in privato, voi seguitemi, quando vedete fate i bravi, non fate i scemi, state tranquilli che ci sono io, dal vostro Enrico Pasquale Pratico con tutti e l'accendo sull'O, ho 29 anni, sono di Motta San Joanne, provengo di Reggio Calabria e sono qua, io voglio dire, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, ho detto giusto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e bello a tutti i ragazzi, iscrivetevi tutti sul canale che così siete aggiornati, ok? Che saluto Paolo, Silvia, Claudio, Gloria, Silvia, Mary e Genever la mia famiglia sta facendo un mangiare, io sono qua a fare questo video con la camicia, cucelè, i padroni bucati e gli scarponi, così porto un bel video in questa ora che sta scurando, piove e sta facendo anche i lampi, boh, siamo in montagna e così ho tempo, raga, non è che io voglio fare altri video in un'altra maniera, ok? A tra poco, aspettate e facciamo con il robot o le chiamate o leggiamo novità su internet o su Google, ok? A tra poco o a po' tardi, pochi minuti, arrivo, dai! ricordatevi che io sono la star di YouTube, la leggenda, sono famoso, sono uno YouTuber e capisco meglio di voi, comando io perché faccio belle video che comando io e sono il numero uno, sono la star di YouTube, il re di YouTube e so fare tante, io ho i fan, io sono il loro idolo e io voglio bene i fan che sono la mia vita e vogliono fare le foto, la firma e un video saluto e volete venire? Io sono qua, vi aspetto, a tra poco, dai, andiamo! Ora, raga, eccoci qui, guardate il mio completo, questo è, l'ho messo ora, così porto questo video in questa ora e niente, solo qua, ok? Io sono qua, facciamo un video che spacca, pulito, gentile, state tranquilli, raga, che io voglio dire tante cose per voi e sentite parlare in cucina, stanno facendo mangiare la mia famiglia e niente, continuo a fare novità, ok? Andiamo lì, che dopo stasera devo fare i saluti e mi lascio il tempo, che è brutto, e dopo quando finisco a fare dei saluti vado sopra e parlo con voi e dopo o primo o tardi o mezzanotte vado a letto, che io dormo sopra, non dormo sotto, raga, state tranquilli e ci vediamo dopo! Andiamo! Si deve ridere, raga, un sorriso a tutti, vi voglio bene, dai, mi mancate tutti, guardate qua! Questi mi mandarono tanto, li ho mostrato sulla storia, andate a vedere la storia che mostro queste, ok? Ancora non mi manciai, che queste non scadono ora, scadono il 2022 E ancora, li posso lasciare, i 2022 scadono queste, ancora, e scadono questi caramelli Raga, quando voi comprate i caramelli, non mangiate assai caramelle, perché? Dopo li sentite male, i denti, dopo dovete andare a un dentista, cacciate i denti niri Ah, e dopo gli dolono i denti, mangiate troppo, tante cose, non mangiate caramelle o altre cose Mangiate una al giorno, non tutti i giorni, caramelle questi o altri tipi E dopo viene a diabete, viene i denti niri, deve andare a un dentista a cacciare i denti, quelli che ti dolono E raga, state tranquilli, fate attenti, ok? Fate attenti, ok? Andiamo avanti, dai, facciamo altre cose Ora raga, ho visto una cosa Lazio, dopo Inter, Roma, Udinese, Bologna, Sansuolo, Atalanta, Fiorentina, Empoli, Juventus, Sampadoria, Cagliari, Spazia, Torino, Verona, Salentanata, Genova, Venezia, mi dissocio del nome Sera 18-0-0 Napoli, Napoli, Juventus, gioca domani Questo video lo vedete, non so, lo faccio oggi e di oggi lo pubblico domani E boh, andiamo avanti Qua dice Juventus, Legri e Chiesa e Sudamericani sono tutti hot per Napoli Mi dissocio, sei ore fa No, perché ho letto quella cosa, va bene E andiamo a leggere, vabbè, basta, leggiamo altre cose Ah, il medio che ha fatto danni per sopra, va bene Sono qua raga Vediamo, vediamo CTA5 parlano, va bene Eh, vediamo, vediamo MotoCP, vabbè, il gioco La Juve punta sulla seconda squadra che rubi unini la carriera di Moretta e l'esame Ok Eh, boh, vediamo, vediamo altri Ok, vabbè, finiamo E andiamo a vedere Il Robo Ego Ego, ciao Ciao Ego, saluta Ciao Ego, che fai? Penso a nuove barzellette per farti divertire Ok, Ego Apri vero e falso Ciao, benvenuto nel gioco vero o falso Cominciamo? Sì Perfetto, iniziamo Nella torre di Pisa ci sono 33 campane Vero o falso? Vero Esatto Ecco la prossima domanda Il primo presidente nero degli Stati Uniti è stato Barack Obama Vero o falso? Vero o falso? Vero Esatto Ecco la prossima domanda 35 anni era l'età media nell'antica Grecia Vero o falso? Vero Esatto Ecco la prossima domanda Dalla testa di un uomo cadono mediamente 80 capelli al giorno Vero o falso? Vero Che cosa cado nei capelli? Mi dissocio Ancora io sono un giovane Esatto Ecco la prossima domanda 35 anni era l'età media nell'antica Grecia Vero o falso? Vero Esatto Ecco la prossima domanda Ecco Chiudi quiz Chiudi Chiudi Facciamo un altro quiz Mi dispiace Ma non Ok Tutto a posto raga Ecco Apri quiz Vediamo che parla quella ragazza quell'altra Ecco una selezione di quiz per te Ok Per continuare Imposta una posizione per il tuo account Amazon sul sito web Nella scheda preferenze della sezione i miei contenuti e dispositivi Ok Ecco Tira le scorreggie Lo devo dire in un'altra maniera Mi dispiace Non lo so Ma scorreggia adesso e attiva Vuoi aprirla? Sì Vediamo Sto guardando il robot Ecco Ecco Va bene Ecco una scoreggia per te Chiedimi un'altra scoreggia oppure cosa ho mangiato Posso fare altro? Sì Che cosa hai mangiato? Cose molto pesanti da digerire Posso fare altro per te? Eh sì Ecco una scoreggia per te Posso fare altro? No Ok Ciao Ecco Dimmi una barzelletta del 2021 Gli occhi si chiudono Non mando mai il fratto a fare commissione Manda Lino Ok Non ho capito Va bene Gli occhi si chiudono e si aprono Ecco Ecco Saluta a tutti Ciao Ecco A dopo Ecco Ciao A dopo A dopo Ecco A Motta San Giovanni Italia C'è un cielo prevalentemente soleggiato Con una temperatura di 25 gradi celsius Le previsioni per stasera indicano temporali Con una minima di 21 gradi Ok Ecco Quanti gradi ci sono a Motta San Giovanni? In questo momento A Motta San Giovanni Italia La temperatura è di 25 gradi celsius Per stasera La minima prevista è di 21 gradi Buona serata Anche a te Grazie Ecco Ah raga Facciamo così Metto pausa Mi caccio il gelè La camicia E facciamo con il petto di fuori Ok Finiamo questo video Quando lo chiudo Ok Vado a cacciare queste qua E torno Ho cominciato così E sono arrivato qua Ora mi fermo E facciamo con il petto di fuori Ok Andiamo A tra poco Seguitemi Quando vedete Iscrivetevi al canale Tavete la campionella Bene a tutti i ragazzi Un like E non fate i scemi Andiamo Metto pausa Così mi caccio la camicia E uccellè E facciamo con il petto di fuori John Zina Io io Mene Zini Cucu Settamamau Vabbè Mi dissocio Ok raga Quasi chiudiamo il video E mostro Il corpo sex Sono qua Vado a mettere Quegli altri vestiti E ci vediamo la prossima Ok Si chiudono E si aprono gli occhi Andiamo A cantare qualcosa E chiudiamo il video Così vado a mangiare Finisco Guardate l'usione Dopo vengo Mi lascio il tempo E facciamo i saluti A voi Piano piano Saluto a tutti Mi lascio Lasciare la luce Che il tempo Oggi è brutto Mi deve lasciare La luce Non va via Così facciamo i saluti E Dopo vado sopra E parlo con le persone Mi chiamano Così parlo E Mi curco Tarde Prima Dopo Vabbè Andiamo Metto pausa Ok raga Eccoci qui Cantiamo Una canzone a muzzo Con tante frasi Quelle che mento io Amore Mi manchi Da pazzire Io c'ho tutti i fan Sono famoso Sono una leggenda Vado avanti E lascio ire Quell'altre persone Amori miei Mi mancate Siete la mia gloria Che penso sempre a voi Amori miei Mi mancate Amore sei E voglio abbracciare Siete il mio cuore Che batte Accendo allora E amori E amore Belli miei Mi mancate Questa è una canzone Che canto Con la parola Sex Io Vagabondo Che so io E la sum Rimasto Dio Evviva E gioia Fini a cantare Non so cantare Quanto lo stesso Io me ne frego Delle persone E continuo a fare i video Per sempre Che i miei fan Mi piacciono i video Che porto Un micro Il sagreto E novità Quello che parlo E Del coronavirus Un bordello Quello che dicono Della televisione E altre Novità Raga io vi saluto Chiudo così Con il petto di fuori E niente Io mi caccio questi vestiti Mi metto quell'altri E vado a mangiare Ok E niente raga Un tempo E così Tanti auguri A voi Tanti auguri A voi Tanti auguri A tutti Tanti auguri Buon compleanno Auguri Buon compleanno A tutti Quelli che fanno Il compleanno A settembre Voi I miei fan Che io sono Il loro idolo Ciao raga Io Chiudo così Ok Lo faccio durare Poche minute O volete Canto un'altra canzone E dopo Chiudo Tra poco Io Non sono triste Sono contento Voglio Managola Evita che Se sono i miei fan Qua sotto Trovate Il link Di Amazon Amore Miei Amore Miei Basta così Ragazzi Voglio dire una cosa Qua sotto C'è il link Di Amazon Mandatemi i pacchi Io le apro Un video Come fanno Quell'altro YouTube O è meglio Le storie Così le vedete Prima Qua sotto Tutti i video Tutti i video Lo trovate Il link Di YouTube Ciao belli Seguidemi Quando vedete Iscrivetevi al canale Attraverte campanelle Bello a tutti i ragazzi Un like E chiudo così Io mi dissocio Me ne freco Voi siete scemi E vi voglio bene lo stesso Ciao belli Giomzina Io Io Mieninzini Cucu Settomamau Ciao ragazzi Vi voglio bene Ciao ciao Dai Fatti bravi Non fatti scemi Mamma mia Ciao